A Air France all'Italia, merci Berlusconi, grazie Berlusconi, così il giornale economico francese L'Eseco giudica la vendita di Alitalia a Air France, dice il giornale francese Berlusconi ci ha fatto fare un buono affare, infatti è stata acquistata senza debiti che sono stati accollati allo Stato italiano e poi è stata pagata 300 milioni di euro per il 25% anziché un miliardo e due. Tutto questo in nome dell'italianità, ironizza il giornale francese. Berlusconi probably looks up one of those blokes you meet on a holiday and just went, no, why? No frances would be out, just one night. He's amazing, I mean, to be honest, Berlusconi really puts Brown into perspective, because did you see when they had those horrific Italian earthquakes, Berlusconi said to the survivors, and I quote, Hey, don't worry about it, pretend you're on holiday. Think it's nice! Mo'n Dieu, das schmeckt ja, wie wenn meine Garla hat gekochte! Was is denn das für eine Fraß? Na, das ist die neue Pizza Corruptioni, vom Silvio Under-Ecke. Also, mir schmeckt sehr gut. Fui, der Silvio. Sag mal, wisst ihr eigentlich, was der alles in seine Pizzen tut? Pizzabacken mit Silvio Per Silvio non bisogna una città perché è sempre la stessa Pizzacorruptioni che bisogna 3 televisioni 4 settori 11 sciei di 18 mili salami una vizia di pfond schmalzica musica e naturalmente un po' di gara una scuola mafia-contate tutto bene perfetto oha come dobbiamo rinforzare Wodka abbiamo bisogno di Wodka ah, chiaro ma dobbiamo ma dobbiamo perché la fahe è curioso come intendo la morale in Italia l'anno c'era la televisione pubblica emittuò la pellicula Brokeback Mountain però gli italiani non potrebbero vedere le scena più gai di questa pellicula questa è la Italia di Berlusconi mujeres voluptuosas in minifalda scottes infinitos lo più importante è questo ballare mentre le cameras si acercano a sus pechos e a sus piernas e tutto ante la atenta mirata di un nutrido numero di ombretoni las mamaciccio che nacero in Italia erano la cin cin e hicieron un flaco favor a questo paese Berlusconi il duello del panorama televisivo italiano non ha capito in unirsi al circo e è che già se sabe se in Italia una mujer quiere llegar a algo primero deve passare per uno di questi programi la ministra di opportunità di qualità di Italia fu una di loro quasi singolo william william and i william 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 ท楽 Woo william Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il dittatore argentino che faceva fuori i suoi oppositori portandoli in aereo con un pallone, poi aprivano lo sportello, gli ha il pallone e dice c'è una bella giornata fuori, andate fuori un po' a giocare. Che fa ridere ma è drammatico. Palazzo Chigi stempera la tensione precisando che la battuta non aveva alcun intento offensivo. Presidente, si rende conto che il suo commento su Obama è offensivo negli Stati Uniti? Perché non chiede scusa? Sono Steve Schell di Bloomberg. Sei anche tu messo nella lista di quelli che ho definito ieri. Bene, un altro nuovo ingresso. Perché non chiede scusa a rivederci? È offensivo. Per favore, chiedi scusa a tu. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.